questa bicicletta vedete la bicicletta poi c'è la cartina e poi ci sono tante altre cose perché diamo il benvenuto a questo pensionato folle che si chiama vincenzo cervi ciao vincenzo dove dove sei dove sei sono ad asti si è arrivato ieri sera diciamo verso le 6 tra l'altro stanotte ha fatto veramente freddo però vabbè siamo sopravvissuti ti vedo un po provato anche hai anche lucky way di trebi meteo che il tuo sponsor insomma ti seguono per la situazione meteorologica no come sarà oggi la tua giornata tranquilla non hai pioggia giusto oggi no oggi tutto buono ok quanti chilometri fatto fino adesso vincenzo è più o meno 240 tutto a posto tutto a posto come stai ecco importante poi tra l'altro vincenzo mi ha fatto avere anche dei piccoli video per esempio la sua la sua colazione eccola qua vediamo e sentiamo anche la colazione del ciclista del ciclista con la brioche tu vedi due due brioche ecco questa è la tua tenda la tenda di vincenzo così appena svegliato ci sono tanti altri piccoli didetti che ci ha mandato qua dove sei a torino il centro di torino si a torino ne devo dire che abbastanza caotica caotica ma non c'è nessuno non c'è neanche una macchina poi qua aspetta 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 che sei provato qua devastato hai detto una salita di 100 metri sarà stata al 20 per cento strada di cemento mamma mia disastro è devastato il ciclista ecco questa è la sua bicicletta qua dove eri su un ponte ferroviario si poi passa il treno anche perché ti sei fermato qui perché avevo fatto una salita è il treno che passa quando eravamo piccoli andavamo tutti sui ponti per vedere i treni partire poi ci sono altri video vediamo un po hai mandato un sacco di roba ecco qua dove sei invece qua sto attraversando una zona veramente nel nulla c'erano queste non so che tipo di animale sarà una mucca no non sono mucche si però non so se la qualità ah non sei la razza ho capito non erano asini erano mucche eh Vincenzo mucche 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 ok quindi vedete l'Italia stiamo girando l'Italia con Vincenzo lo faremo anche nei prossimi giorni le mucche sono lì che stanno brucando poi vediamo un po' se c'è un altro video finalmente arriviamo ad Asti Asti ecco quindi dove ti trovi adesso si ad Asti c'è anche il buon vino eh come? c'è anche il buon vino ad Asti e magari in quel giorno qui vediamo partenza direzione Torino ah Torino qua un video precedente vediamo e poi vediamo va bene ottimo ottimo allora intanto complimenti complimenti anche per il tuo reportage con le tue foto perché ci sono anche quelle che possiamo vedere questo è il Giro d'Italia questa è la cartina del Giro che Vincenzo deve fare qua dove ha sostato con la sua tenda con la sua bicicletta vedo che la bandierina resiste eh è lì con Radio Alta senti come passerai questo momento di Pasqua perché è chiaro che è Pasqua anche per te no Vincenzo? beh in questi adesso diciamo che non posso continuare così se no non arrivo vivo alla fine e in quei giorni qui mi raggiunge la moglie facciamo Pasqua insieme ah bene bene Giussi Giussi salutaci Giussi è praticamente la sarta che ha cucito la bandierina no? non solo perché se non era non aveva il suo supporto questo progetto non aveva un seguito ah ok grazie anche a lei ma sicuramente ricordiamo che per chi non ci avesse seguito Vincenzo ha deciso di fare questo Giro d'Italia sono 7000 km è partito ma quando sei partito? l'altro ieri che giorno sei partito Vincenzo? vincenzo a confondermi ma martedì mi sembra martedì noi lo stiamo seguendo qua e là ti seguiremo infatti siamo però sei ancora nord sei ancora io non vedo l'ora che tu arrivi non so a Roma poi la Sardegna ho voglia di vedere la Sardegna con te la Sicilia io voglio riprendere un po' di caldo sì ma arriva arriva tranquillo beh più vai giù vedrai che sarà veramente molto caldo che temperatura hai questa mattina? eh non lo so però fa piuttosto freddino penso sotto i 5 gradi ok però in tenda sei riuscito a dormire tranquillamente? sì 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 in tenda sono attrezzato ok oggi la tappa quindi è Asti? Asti ma vado in una zona appena fuori Asti dove mi dovrei incontrarmi con la moglie ok e ti fermi ti fermi per qualche giorno quindi? sì mi fermo penso tre giorni ok ok quindi fai la tua vacanzina e poi e poi riparti fai il turista vero fai il turista vero giustamente allora intanto complimenti grazie anche per tenerci compagnia e farci vedere un po' l'Italia un'Italia diversa un'Italia nel mattino un'Italia in bicicletta un'Italia che poi andrà anche in vacanza fantastico bene la giornata dimmi dimmi posso passare altre immagini magari più sul territorio sì ecco poi potete seguirlo attraverso facebook ti hanno mandato le amicizie ti hanno chiesto le amicizie i nostri imparecchi imparecchi e quindi se volete ecco tenergli compagnia chiedete l'amicizia a Vincenzo Cervi lui che sta facendo questo Giro d'Italia ah io sono un ascoltatore di colazione così mi fate sapere mi fai sapere anche tu cosa ti dicono eh Vincenzo posso dirti che contrariamente a qualche giorno fa che avevi intervistato una contessa sì mi ha letto che non avevo mai visto la trasmissione devo dire che ce ne sono parecchi che vedono invece la trasmissione perché mi sono arrivate le amicizie bene bene sono contento questo mi conforta è da 15 anni che siamo qua quindi meno male che c'è qualcuno che ascolta senti Vincenzo allora buona Pasqua buona Pasquetta rilassati ti vedo un po' provato dormito un pochino male secondo me no? un po' infreddolito alle 4 4 e mezza non so che tipo di animale era un uccello su un albero qui ha pensato di fare un po' di conversazione ti ha svegliato ma adesso ci pensa Giusina adesso arriva Giusi e vedrai che tutto sistema allora intanto grazie Vincenzo ci sentiamo la prossima settimana non ti dico il giorno perché sarà una sorpresa ecco io man mano tanto io ho tempo ecco assolutamente io ti chiamo il giorno prima ti dico guarda Vincenzo domani ci sentiamo preparati per il nostro consueto collegamento sei veramente straordinario salutiamo anche Massimo che è stato il gancio che ci ha messo in contatto Massimo caro amico lo saluto anche io Vincenzo buon viaggio buon viaggio mi raccomando prudenza sempre prudenza sempre salutaci Giusi manda le tue foto anche mandamele in privato sul gruppo di colazione e anche nel tuo Facebook così abbiamo tutto sotto controllo grazie Vincenzo buona Pasqua a tutti anche a te in particolare grazie grazie Vincenzo pazienza di seguirmi no è un piacere guarda poi a me piace questa idea dell'itinerario ti invidi un pochino cioè vorrei essere io al posto tuo e tu qua no io in bicicletta facciamo cambio c'è sempre posto se vuoi venire sì però tu devi farlo da solo hai deciso di farlo da solo questo questo viaggio no è giusto così la prossima volta vado io e tu stai qua a condurre la trasmissione ok facciamo cambio Vincenzo buona Pasqua buon viaggio e grazie grazie davvero grazie tanto ciao Vincenzo chiedetegli l'amicizia colazione con Radio Alta Radio Alta